Della verità, dopo due anni di stop, ripartiamo quindi con l'evento di Carnevale. Torniamo quindi a presentare quelli che sono gli eventi che caratterizzano l'ultimo weekend di Carnevale. Il periodo indicato è quello che va dal 27 al 1 marzo, quindi arriveremo a chiudere proprio con l'evento del martedì grasso. Non sarà mai meno la classica programmazione di Carnevale che Teremoli ha sempre proposto, poiché non abbiamo avuto i tempi per poter strutturare la parata dei carri, quindi sarà assente per questa programmazione la parata dei carri. Abbiamo però voluto organizzare un vero e proprio villaggio di Carnevale in Piazza Vittorio Veneto dove l'esibizione dei maghi e degli artisti di strada aglieteranno un attimino il pubblico dei più piccini. Quindi questo è quello che abbiamo voluto porre in essere e abbiamo avuto anche la collaborazione da parte delle scuole di danza che nella giornata di domenica pomeriggio con le loro esibizioni davano un po' di vita e di colore a quello che è l'ultimo weekend del Carnevale 2022. Un segnale di ripartenza importante soprattutto se guardando al 2021 quando eravamo in piena zona rossa. Sì, proprio così è un segnale estremamente importante. Speriamo che sia il segnale definitivo che sancisce un attimino la chiusura di questo periodo che purtroppo vuoi non vuoi ha caratterizzato gli ultimi due anni della nostra vita. Speriamo quindi di riuscire a guardare al futuro con maggiore ottimismo, speriamo di riuscire a riporre in essere tutta la programmazione che l'amministrazione comunale aveva già in mente negli anni passati ma che purtroppo per ovvi ragioni non è stata in grado di realizzare. Speriamo di riuscirlo a fare in questo 2022. Si rinnova comunque la sinergia con le realtà associative del territorio? Assolutamente sì, anche quest'anno, ripeto, nonostante le difficoltà che ancora purtroppo insistono, abbiamo avuto un notevole riscontro da parte di tutte quante le associazioni e naturalmente non posso che ringraziarle per la loro vicinanza. Grazie a loro quindi saremo capaci di offrire maggiore spettacolo e maggiore intrattenimento per questo carnevale. Intanto si comincia a programmare anche quella che è la futura stagione estiva, c'è stato un incontro con alcuni operatori. Sì, stiamo già lavorando ma già da diverso tempo, ci stiamo confrontando un attimino con gli operatori del settore, con i commercianti, con tutti gli esercizi commerciali, con la quale abbiamo già negli ultimi anni instaurato una bella collaborazione. Nonostante le difficoltà, siamo stati già in grado di realizzare cose importanti che naturalmente potrebbero diventare ancora più importanti, visto diciamo un attimino queste restrizioni che oggi ci stanno abbandonando. Quindi ritorneremo un attimino alla normalità e a produrre naturalmente qualcosa di ancora più efficace e di più gradevole.